SINDACI DELL'ATRA Non funzionano, appello al sindaco Evade dai domiciliari e torna a minacciare di morte l'ex moglie Le forze dell'ordine cercano 41enne macedone Con il camion finisce sui binari del passaggio a livello Mattinata di disagi per pendolari automobilisti La finanza sigilla un campo di gazzo Trasformato in una discarica da un imprenditore agricolo della zona Buonasera telespettatori, in apertura di telegiornale parliamo di riforma della sanità I sindaci dell'alta sono preoccupati di doversi accollare i conti in rosso dell'azienda sanitaria padovana Si apre quindi un nuovo fronte con i primi cittadini che chiedono di cercare una soluzione diversa Magari extra provinciale Virtuosità non significa fare il salvadanaio per sanare i debiti dell'Ulss 16 di Padova La grande preoccupazione dei sindaci dell'alta padovana che guardano all'unica Ulss provinciale in maniera critica Tutto per questione di soldi e bilanci Da una parte i conti in ordine Dall'altra un buco da ripianare Il fronte dei primi cittadini dell'alta si divide dopo le dichiarazioni del presidente Bolis Concordano sulle difficoltà di Padova ma ci si scontra sulla soluzione Ieri abbiamo raccolto lo sfogo del sindaco Miatello che guarda a Bassano per unire tre realtà virtuose Come quella bassanese con l'ospedale di Cittadella e Camposampiero Anche Fabio Bui, sindaco di Loreggia, esprime la propria preoccupazione Oggi rischiamo di diventare periferia dell'impero Anzi, portare i nostri risparmi in un Ulss che ha qualche problema di bilancio Su questo siamo effettivamente preoccupati Bui chiede di ascoltare i territori Non capisco perché oggi un servizio di incidenza rischia di venire smantellato Non solo i servizi sanitari ma anche quelli sociali Sappiamo benissimo che l'Ulss 16 e l'Ulss 17 hanno due modelli sanitari, sociosanitari diversi L'idea quindi è quella di una realtà extra-provinciale Ma in un'ottica di riorganizzazione e quindi di diminuzione del numero delle usle È possibile guardare al di là della provincia di Padova? Tutto è possibile però con un progetto che non ci è stato ancora stato indicato in maniera chiara E può essere anche un progetto sovra-provinciale quindi guardando anche ad altre province Una delle vie percorribili in questo momento per rispondere alle richieste di questi primi cittadini È quella di ampliare il perimetro d'azione dell'Ulss della Pedemontana Un territorio vasto sicuramente che va da Campo, San Piero o Attiene passando per Cittadella e Bassano Ma che ha caratteristiche simili e avrebbe soprattutto pari dignità La soluzione è a portata di mano Ed è in corso un dibattito tra i sindaci dell'Alta Padovana I primi cittadini sono preoccupati di doversi accollare i costi della sanità padovana E di perdere le peculiarità del territorio Qualcuno ha proposto di unire le eccellenze in una grande ULSS della Pedemontana Ma questa operazione è utile? Secondo voi ve lo chiediamo attraverso il nostro Tg Linea Aperta Dal titolo Sanità, l'unione fa la forza Serve un ULSS della Pedemontana allargata, quindi scriveteci O mandate un sms, un fax o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione Adesso è ufficiale, quest'anno a Bassano non ci saranno L'esposizione del bestiame né il concorso del bue grasso Inizialmente previsto per giovedì 6 ottobre Nell'ambito della tradizionale festa d'autunno La decisione è stata presa oggi dalla Giunta Comunale Che ha ratificato così la notizia dell'Ulss 3 relativa alla possibile diffusione del virus Cosiddetto della lingua blu Niente animali dunque in Viale dei Gasperi Dove invece sarà garantita la presenza degli operatori del commercio ambulante E degli stand gastronomici dalle 8 alle 14 Mentre rimane naturalmente confermata la fiera in centro storico nel fine settimana La questione del Ponte Vecchio Oggi in Giunta è stata affrontata la questione degli interventi tampone Da mettere in atto in attesa che il Tar finalmente si esprima definitivamente sulla questione del servizio Ponte Vecchio sarebbe da bussare alle porte del Tar di Venezia e chiedere Ehi c'è nessuno? Perché dal 6 luglio tutto tace E intanto il monumento palladiano è ridotto al lumicino Al comune non resta che rattoppare e evitare il tracollo del simbolo della città di Bassano Una decina di giorni fa gli ultimi sopralluoghi dei sommozzatori Per capire quali lavori realizzare per evitare che eventuali piene del Brenta Tipiche dei mesi autunnali scrivano la parola fine per la struttura linea In attesa che i giudici con tutta calma nonostante la sommorgenza Si esprimano su chi dovrà realizzare le opere di sistemazione del grande malato E intanto si corre ai ripari Per effetto di questa ordinanza del Consiglio di Stato Noi non possiamo, non abbiamo potuto lavorare in questo periodo estivo Che tra l'altro sarebbe stato molto propizio visto anche il livello del fiume Brenta Quindi adesso i tecnici hanno portato un progetto E valuteremo in questi giorni a livello di amministrazione Come procedere, quello che fa un po' arrabbiare Che dovremmo spendere dei soldi Che magari avremmo potuto spendere per altro Si cercherà tentando di ottimizzare tempi e lavori Di effettuare azioni che siano propedeutiche alle opere definitive Il problema grosso che lì abbiamo sono le fondamenta che sono messe molto male Il vecchio trave del Casarotti sta cedendo un po' ovunque Sono quattro sotto le quattro stilate principali L'abbassamento del ponte si era arrestato per effetto degli interventi fatti in questi mesi È stato alleggerito sulla parte della massicciata È stato puntellato sotto Però in caso di piena questo non è sufficiente Quindi ai tecnici abbiamo chiesto di darci delle soluzioni Che lo rinforzino nei limiti del possibile Che noi non possiamo lavorare Perché come ripeto abbiamo un'ordinanza del Consiglio di Stato che ci blocca Verso il Tribunale della Pedemontana Veneta È tutto pronto per il convegno in programma venerdì prossimo 30 settembre al Teatro Duse di Asolo Aperto a tutti E che vedrà la partecipazione anche del Presidente del Veneto Luca Zaia Sarà l'occasione per fare il punto sui dati Con proiezioni statistiche e realtà socio-economiche Dai quali emergerà evidente la necessità di attivare quanto prima Un nuovo presidio di giustizia a Bassano O quindi l'ottavo del Veneto Che andrà a vantaggio di un ampio territorio A cavallo tra le province di Vicenza, Treviso e Padova Apertura dei lavori alle 9.45 E quella dell'illuminazione pubblica è una nota spesso dolente nella Bassanese Se ne occupa oggi la nostra rubrica E io chiamo Rete Veneta La prima ed unica ad occuparsi dei problemi dei cittadini Siamo a San Vito in via Riviera Cassette Quello che vedete è il passaggio pedonale che costeggia le abitazioni Ormai da due settimane i lampioni che illuminano questo piccolo sentiero sono spenti E per questo i residenti hanno deciso di chiamare Rete Veneta Da 15 giorni due lampioni non funzionano Io ho parlato con l'addetto del magazzino Prima aveva detto che sarebbero venuti a vedere Questa mattina, anzi che la settimana scorsa Mi ha confermato che non posso non fare niente Perché bisogna cambiare tutti i lampioni E avere pazienza Pazienza a dire il vero I residenti la stanno portando già da anni Da quando pagando per la lottizzazione Erano stati promessi i lavori mai effettuati Noi all'interno della lottizzazione abbiamo pagato l'illuminazione che non è mai stata fatta Infatti il concetto è questo Voi avete pagato un'illuminazione perché questo passaggio pedonale fosse illuminato E invece non si sono mai visti i lampioni Esatto, avevano detto che dovevano prima risanare la mura La mura è stata risanata circa 15-20 anni fa Però l'illuminazione si che noi per entrare O abbiamo la pila o se no entriamo in casa nostra al buio In attesa che il comune ripristini dunque l'illuminazione Almeno una cosa il signor Todeschini è riuscito ad ottenerla Lo sfalcio dell'erba Anche se Lei dice paghiamo un servizio e lo ha fatto questo Esatto, anche perché abbiamo una tassa nuova Servizi indivisibili Quali sono? Cioè paga Mantalone paga Che noi ce ne frega niente E vi ricordiamo che potete farci avere le vostre segnalazioni scrivendo a redazione Chiocciola reteveneta.it oppure telefonando al numero 0424 504 703 Vi ricordiamo che reteveneta è l'unica ad occuparsi dei problemi dei cittadini E di fidate delle imitazioni Ora invece parliamo della cronaca Torna sotto i riflettori il 41enne romeno Che tre anni fa sperano la quasi e quasi uccise figlioletto È evaso dai domiciliari E sta minacciando di morte l'ex compagna È latitante da mercoledì E sta terrorizzando l'ex moglie con minacce di morte lasciate in segreteria telefonica Torna sotto i riflettori Fadil Silovski Macedone di 41 anni arrestato dopo che nel gennaio 2013 Inseguì e speronò a fellette di Romano Dezzerino l'auto dell'ex compagna Con all'interno anche il figlioletto e la madre di lei L'uomo è evaso dai domiciliari che stava scontando a Conegliano Ora il tribunale di sorveglianza è disposto per lui a ritorno in carcere È aperta alla caccia Ma sono ore d'apprensione Soprattutto per la donna nel mirino del 41enne disposto a tutto Un incubo che pare non avere fine per questa 32enne di origine romena Il suo errore è volersi separare da quello che da marito diventò guzzino Proprio lui non accettando il divorzio Quel 24 gennaio di tre anni fa voleva riprendersi il figlio di quattro anni Attesi davanti alla loro abitazione di Cassola Che la moglie montasse in auto con il piccolo e la nonna Li inseguì, li speronò più volte fino all'epilogo In Vianardi a fellette al semaforo L'auto che guidava la donna andò distrutta Feriti tutti gli occupanti, gravissimo il bimbo in pericolo di vita E trasportato con l'elisoccorso alla pediatria di Padova Fadil Silovski venne arrestato il giudice Dopo la derubricazione del reato Rattentato omicidio a lesioni gravissime Recise per i domiciliari Fino all'evasione della settimana scorsa E al suo rinnovato accanimento nei confronti della 32enne E colpo da decine di migliaia di euro Nella villa di una delle figlie dell'imprenditore Maculana Breganze sono entrate in casa quando non c'era nessuno Hanno atteso l'uscita dei proprietari Poi hanno messo a segno il furto rubando gioielli e orologi per migliaia di euro Almeno 5 le persone entrate in azione nella villa di Maria Vittoria Maculana Una delle figlie del noto produttore di vino Fausto I malviventi hanno fatto sparire diversi preziosi Il tempo a loro disposizione è stato tanto I banditi non hanno agito a caso e studiavano da tempo i movimenti di Maria Vittoria e del marito Sabato verso le 20 la coppia è uscita e solo al ritorno si è accorta dell'incursione I ladri sono andati a colpo sicuro nell'abitazione di Via Fratte Posta sulla sommità di una delle colline che sovrasta il territorio comunale breganzese Doppia emergenza questa mattina Così la mattinata degli automobilisti e pendolari è diventata un inferno Bassano, mattinata da dimenticare per i passeggeri delle linee ferroviarie Che collegano Bassano a Cittadella e a Castelfranco Alle 7.40 alla Polfer è stato segnalato un uomo che camminava sui binari Fra la stazione Bassanese e San Zeno Il traffico ferroviario è stato bloccato Sul posto una pattuglia del commissariato e una della polizia ferroviaria Ma l'uomo non è stato trovato La situazione è tornata alla normalità alle 8.20 Poco dopo però un camion turco che doveva andare a scaricare a Bassano È rimasto incastrato fra le sbarre del passaggio a livello di Caminotto Lungo la strada fra Rosà e Rossano L'autista ha cercato di oltrepassare l'attraversamento in extremis Ma le barriere si sono chiuse Il capotreno di un convoglio che stava ripartendo dalla stazione di Rosà Si è accorto di quanto era accaduto e ha fermato la corsa Anche in questo caso la tratta è stata bloccata Sul posto gli agenti della Polfer, il personale di RFI e i carabinieri Enormi disagi, oltre che per gli utenti delle ferrovie Anche per gli automobilisti che sono rimasti fermi alle sbarre per lungo tempo Solo dopo un'ora l'allarme è rientrato Fuga sul costo ad un giovane motociclista Sono stati tolti quasi 80 punti dalla patente Asiago, il costo trasformato in una pista Una moto inseguita da una pattuglia della stradale Protagonista un centauro 18enne di Vicenza Che ha pensato bene di fermarsi all'alto in posto della polizia Ma poi, una volta sceso dall'auto la gente Ha ripartito a razzo tentando la fuga, impennando in discesa Il tutto è avvenuto un paio di sere fa Tra il tornante numero 5 e la strada provinciale 249 a Zanè Qui gli agenti, vista la pericolosità delle manovre del giovane Hanno preferito desistere dall'inseguimento Avevano però il numero di targa Nonostante fosse piegata Se lo sono andati a prendere a casa La moto è stata fermata per tre mesi Al ragazzo è stata ritirata la patente E gli sono stati decurtati 78 punti Un record Inoltre, gli sono state elevate una serie di contravvenzioni Per complessivi 900 euro Oltre alla sanzione che dovrà conteggiare nei suoi confronti La prefettura per l'impennata Controlli a tappeto da parte dell'alliquota radiomobile di Carabinieri di Bassano Durante l'estate Oggi è stato fatto un bilancio dell'attività Da giugno ad oggi sono state ritirate 12 patenti di guida Per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 11 persone sono state segnalate alla prefettura Quali assuntori di sostanze stupefacenti 3 persone invece sono state deferite per lesioni stradali gravi 2 persone sono state sanzionate per ubriachezza manifesta E inoltre sono state elevate 2 sanzioni ad esercizi pubblici Per violazioni dell'orario di chiusura E 4 sanzioni ad esercizi pubblici Per somministrazioni non consentite di bevande alcoliche Il tutto unito ad un'attività di polizia giudiziaria Confluita in una serie di denunce Per furto aggravato, rapina impropria Spendita di banconote false Ed un arresto per evasione nei giorni scorsi E con il prossimo servizio ci occupiamo Della primo festival della libera imperfezione Box Festival, prima edizione di un progetto Che vede coinvolti numerosi gruppi, associazioni e centri Che si occupano di infanzia, disabilità e animazione e ricerca Gravitano nel Bassanese Un vero e proprio festival di arte e cultura E libera imperfezione Rivolto in primis ai bambini e ragazzi Di riflesso alle famiglie e agli educatori Teatro Villa Angaran San Giuseppe a Bassano Si comincia sabato mattina Con una tavola rotonda Che vedrà coinvolti anche gli studenti Delle scuole superiori cittadine Con relatori di calibro nazionale Domenica spazi più piccoli Collaboratori creativi, letture, racconti Castello delle fiabe e musica dal vivo Con filo conduttore e la casa Tutto in giardino Mentre le stanze della villa Si potranno visitare in un percorso sensoriale Che farà scoprire le bellezze dell'antico edificio Ai giovanissimi pionieri Nuova avventura per Sammy Basso E la giovane ditezza effetto da progeria Che questa volta affronterà la Maratona di Venezia Sammy Basso è pronto per una nuova sfida Alla storica Maratona di Venezia 42,2 km da Stralla, capitale del Veneto Per raccogliere fondi per la ricerca sulla progeria Malattia genetica di cui soffre Sammy Che porta all'invecchiamento precoce Ricerca indispensabile per trovare una cura Per questa patologia rara Supporto dei privati indispensabile Per sostenerla Tra di loro anche il presidente del Veneto Luca Zaia Tu sei riuscito in tutto questo tempo In tutti questi anni A riunire gruppi, persone, associazioni Che magari con la disabilità Non hanno niente a che fare Però si sono mossi, si sono mobilitati E hanno ottenuto importanti risultati Sì, in realtà non sono riuscito Ma sono sempre stati gli altri, le persone A venire a casa nostra E a chiederci cosa possono fare per noi Questo è bellissimo appunto Perché si vede anche il cuore della gente Anche quando magari non c'è ricerca Non c'è interesse Nei poteri alti a fare ricerca Però il cuore della gente ha interesse al bene Come siamo messi con la questione Proprio legata alla ricerca La ricerca ha fatto passi da gigante Da quando è stata diagnosticata la progeria Non c'era ricerca Nel 2003 è stato scoperto il gene Che provoca la progeria Ora negli Stati Uniti ci sono Tre clinical trial in corso Cioè tre sperimentazioni cliniche Di farmaci su pazienti umani E poi la ricerca Siamo dieti Siamo molto orgogliosi Di averla portata qui in Italia E allora il 23 ottobre Tutti a fianco di Sammi Che sarà accompagnato Da una ventina di appassionati della corsa Che lo spingeranno Su una carrozzina speciale E per l'Alta Padovana Andiamo a Gazzo Dove è stata scoperta Una discarica a cielo aperto Un terreno di 5.000 metri quadri Trasformato in una discarica abusiva A cielo aperto Abbandonati anche Rifiuti pericolosi Succede a Gazzo Nei giorni scorsi La guardia di finanza di Padova Durante un servizio di controllo Del territorio Ha sequestrato il fondo In uno stato totale Di degrado 50 le tonnellate Di rifiuti Lasciati sul posto Materiali edili Lastre di fibro cemento Apparecchiature elettriche Ed elettroniche Imballaggi di vario tipo E vecchi mezzi agricoli In disuso Le fiamme gialle Di cittadella Sono state aiutate Da un tecnico specializzato Nel settore ambientale Circoscritta l'area E percependo Il potenziale pericolo Che poteva scaturire Per le falde Acquifere E l'ambiente circostante Hanno sequestrato il campo E segnalato il proprietario Titolare anche Di un'azienda agricola Alla procura Della Repubblica Di Padova Per il reato Di attività Di gestione Di rifiuti Non autorizzata L'uomo è stato anche Segnalato all'Arpav Di Padova Per i necessari Accertamenti di competenza Nonché al comune Di Gazzo Che potrà ora Disporre le necessarie Operazioni per la rimozione Il recupero O lo smaltimento Dei rifiuti Lavori che Con il ripristino Dello stato dei luoghi Saranno a carico Del proprietario Sono finiti i soldi Per l'accoglienza Ed ora La questione Migranti Diventa incandescente Se ne parlerà Questa sera A Focus Con una diretta Satellitare da Abano Sulla fiaccolata Contro l'arrivo Di profughi In studio Si commenterà Con il nostro direttore E gli ospiti Che saranno Roberto Marcato Roberto Zancan Franco Birolo Adolfo Zordanna Alberto Panfiglio E da casa Attraverso voi Telespettatori Che come sempre Inviate numerosi sms E commenterete Gli accaduti Gli eventi Che accadranno Questa sera Quindi Non perdete L'appuntamento A partire Dalle 21.05 Ora vi lascio Le previsioni del tempo Vi ringrazio dell'attenzione Arrivederci Le previsioni per domani In pianura serena O poco nuvoloso Salvo temporanei Maggiori addensamenti Sulle zone pedemontane Al pomeriggio Possibili foschie Nelle ore più fredde Precipitazioni assenti Temperature In pianura Pressoché stazionarie In montagna In diminuzione Salvo le minime Nelle valli Che tenderanno Ad aumentare Precipitazioni assenti Precipitazioni assenti O'opinion Precipitazioni assenti